Il giubileo della misericordia 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 Celebra la misericordia Il giubileo della 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 misericordia Il nostro maestro generale da Roma, ormai la macchina è molto avviata, la macchina che celebra il giubileo, ci ricorda che per noi in quanto tali il giubileo domenicano è un modo per mettere a fuoco sempre di più il dono che abbiamo ricevuto. Io ho qui degli appunti chiaramente, vi ha invitati a rinnovare, a laudare, a benedire e a predicare, quindi sono le tre regole fondamentali e poi altre indicazioni date ai domenicani, mentre per quanto riguarda i fedeli cosa bisogna fare? In realtà noi di fondo diamo ai fedeli quello che abbiamo, quello che siamo, per questo il maestro e l'ordine ci invita a rimettere a fuoco quello che siamo, quindi i predicatori della misericordia, perché gli altri possano godere di questo dono. Cioè noi alla fine Tommaso d'Aquino dirà che il domenicano è colui che dà quello che vive, quello che ha contemplato e i fedeli dovranno vivere, speriamo il più possibile, di questo dono, del nostro modo di predicare, del nostro modo anche di regalare o di offrire i doni della grazia che riceviamo. C'è un forte richiamo, ritornare alle origini, questo l'ho letto io in più parti, perché questo bisogno di ritorno alle origini, sempre riferito ai padri predicatori, forse si è persa un pochettino per strada questo indirizzo, non credo. Un po' sì nel senso che, allora è stato il Concilio Vaticano II che ha rilanciato l'importanza di ritornare al senso di appartenenza di ogni realtà, di ogni congregazione, e questo è il modo migliore per, come dire, permettere al carisma di incarnarsi, cioè ognuno sia quello che è. Il Concilio Vaticano II ricorda i religiosi in particolare questo, perché ogni famiglia religiosa ha un modo di manifestare l'amore di Dio. Domenico fondamentalmente fu un uomo innamorato appunto di Gesù e del suo Vangelo, che in modo sapienziale cercò di ripresentarlo, di ridarlo al popolo di allora. Un popolo che aveva avuto grandi problemi, diciamo, di confusione dottrinale, di qui le eresie, che Domenico cercò, senza temere di incontrarle, di ascoltarle, di abbracciarle, cercò di riportarle all'alve originale, appunto quello della fede. Il Vaticano II, facendo un salto, ci rinvita a ritornare alla bellezza della nostra identità, quello per cui siamo nati, per cui siamo stati costituiti, cercando di... Soprattutto quello di diffondere la parola di Dio in giro per il mondo. I Domenicani nascono per questo. Sì, ma dico, è riferito proprio pure all'attività, diciamo, giornaliera che si svolge, nel senso che voi predicate però rimanendo all'interno, diciamo, della Chiesa. Cioè vi spinge ad andare in altri posti, all'interno del cerchio delle mure della città, di diffondere la vostra opera di evangelizzazione anche in altre parrocchie. E' possibile che questo avvenga, oppure c'è qualche problema, chiaramente, territoriale? No, assolutamente sì. Cioè io mi sono posto a questo problema. Cioè io prima credo di avere visto in passato altri, diciamo, monaci, tra virgolette, frati, non solo Domenicani, in altre parrocchie del... Perché proprio c'era questo spirito, cioè viene il padre predicatore, mi ricordo dal ragazzino, che mia madre mi diceva in questo mondo, Oggi ci vengono i padri predicatori, ricordo che in particolare sono venuti i padri, di via Terra Santa pure, e venivano a predicare perché portavano le loro esperienze vissute in Terra Santa. Ora questo può riavvenire che un padre domenicano, in virtù di questa regola che vi distingue, possiate andare nelle parrocchie a diffondere... Dunque di fatto questo non si è mai smesso di fare, nel senso che il predicatore è colui che risponde agli inviti per la predicazione, e noi continuiamo a, per quello che possiamo, siamo anche un po' pochi ultimamente, quindi a rispondere agli inviti. È un momento di festa, un momento particolare, la visita di un padre predicatore. Perché in generale la predicazione di un predicatore dovrebbe essere più sapienziale, cioè un po' più istruita, un po' più dottrinale, perché? Perché ha avuto il tempo di lavorare per coltivare appunto la profondità della propria predicazione. Domenico volle che i frati si dedicassero giorno e notte, anzi non solo alla preghiera, ma allo studio. Questa è una novità unica. Perché il parroco diventa anche un amministrativo. Esattamente, il parroco è giustamente portato più a dover amministrare la parrocchia e il predicatore. Noi siamo, diciamo, slegati da impegni parrocchiali, quindi di amministrazione, proprio per la predicazione, perché potessimo trovare più tempo per formarci, e quindi andare ad annunciare una parola in maniera, diciamo noi, un po' più piena, un po' più anche gioiosa. E quindi la domanda è ancora, diciamo, più specifica. Quindi, in virtù delle cose che abbiamo detto di questo anno giubilare, voi avete pensato di intraprendere per il 2016 un'attività al di fuori, diciamo, di San Domenico? Sì, sì, sì. Altra provocazione questa. Io ti chiedo scusa, ma non hai ragione. Io dico le cose che penso. Noi abbiamo tutta una serie di attività. Da Palermo, nonostante le nostre forze esigue, abbiamo in qualche modo già preparato un calendario che ci troverà a più livelli a rispondere all'anno giubilare. Il primo livello è quello di ognuno nel nostro specifico, Padre Sergi, piuttosto che Padre Marcello, Padre Stagnitta, Padre Nino, anche Padre Gianni. In qualche modo raccontiamo chi siamo nel nostro specifico. Dobbiamo fare i complimenti a Padre Gianni che è stato ordinato sacerdote da qualche giorno. Quindi già di per sé noi faremo dei momenti, voi che siano incontri, conferenze o colloqui, che raccontiamo un po' chi siamo. Nel mio specifico, io ho fissato la data del 18 febbraio, che ricorda il Beato Angelico, per provare a ricordare a coloro che poi saranno presenti in San Domenico come si può fare evangelizzazione attraverso l'arte. Tu sai che in quanto architetto, in quanto io ho un po' questo specifico, ma gli altri faranno lo stesso. E andremo nelle varie parrocchie. Io non lo sapevo. Sì, noi stiamo contattando le parrocchie che portano il titolo, portano dei titoli dedicati ai Santi Domenicani. Abbiamo cercato di fare una cernita, una scelta, dove a un certo punto porteremo una reliquia di San Domenico che abbiamo custodita da tempo. Noi custodiamo da tempo una reliquia di Domenico in convento. Non so se tu l'hai notata, è quel reliquiario che abbiamo rimesso davanti alla grande pala di San Domenico in chiesa, da noi, che è un reliquio d'argento che c'è proprio una reliquia. E quindi approfittiamo di questo segno per fare momenti di preghiera o liturgie. Ancora c'è un po' da stabilire la forma di questo incontro. Ma a noi ci sembrava bello ripresentarci alla città di Palermo anche sul piano pastorale. Quindi da una parte sul piano culturale, ma dall'altra parte il piano pastorale. Da premettere che noi già siamo anche tirati dentro a delle predicazioni itineranti. In questo momento per esempio Padre Gianni Curci è in Puglia perché sta ancora predicando in un paese, perché è stato invitato, così come Padrino Rocca ha terminato da poco la novena dell'Immacolata a Carini. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi siamo continuamente rispondenti a queste richieste. Allora, cosa prevede il Giubileo dei Domenicani? Allora, concretamente... Indulgenza plenaria, io leggo. Allora, concretamente il Santo Padre ha dato all'ordine, con una bolla tramite la penitenziaria apostolica, la possibilità di lucrare l'indulgenza plenaria. Ecco, lucrare, questa parola dobbiamo specificare. Dunque... Perché per voi è un termine, diciamo, normale. Sì, tutte queste sono termini che possono esporsi a... Invece, per chi ascolta... Hai ragione. Sì, sì, sì. Dunque, il Santo Padre, appunto, visto l'eccezionalità di quest'anno che ci riguarda, è in concomitanza all'anno Giubileo della Misericordia, ha permesso, ha concesso ai Domenicani di poter, appunto, vivere e quindi diffondere questo dono. Il senso è questo. Ovviamente io faccio una brevissima premessa, lo dicevo poco fa anche a Padre Marcello, per ricordarmelo, che stiamo parlando, ovviamente, nell'ambito del mistero del mistero della grazia. Nel senso che la Chiesa ha avuto questo dono straordinario da parte di Cristo e quindi da parte di Dio, di poter riannettere gli uomini, l'uomo, alla comunione con Dio. Il concetto è questo. Il dono grande che noi vogliamo provare a rivivere in prima persona e regalato agli altri è quello di dare la possibilità, finalmente, di rivivere questa riconciliazione piena, con Dio, con se stessi e con gli altri. C'è un uomo che è un peccatore perenne, ha la possibilità, in questo caso, di riavvicinarsi a Dio. Dunque, il concetto di lucrare l'indulgenza significa ottenere l'indulgenza, cioè vivere, riuscire a ritornare ad avere in sé questo dono grande, che è appunto la piena remissione di tutti i peccati, con tutto quello che ne consegue. Perché per alcuni peccati la confessione è soltanto non... Dunque, no, non bisogna metterla su questo piano, perché l'abbiamo discusso ieri tanto, perché... Ma te lo dovevo chiedere. Hai ragione, perché allora tutti i mezzi che la Chiesa ha ricevuto, i sacramenti, ottengono la grazia, cioè ottengono la riconciliazione piena con Dio, tutti. Perché sennò il mezzo sarebbe un poco deficitario. Dobbiamo noi confermare... Però molte volte sembrerebbe che la confessione e l'eucaristia da sole non bastano a, diciamo, ristabilire un diretto. Allora, noi in quanto Domenicanio e Giuseppe distinguiamo, non bastano non perché Dio a un certo punto ci ha privato di una parte o perché ha pensato oggi di darne di meno. Quando Dio si dà, si dà tutto. Il problema è dalla parte degli uomini. Dalla parte degli uomini ci possono essere tutta una serie di questioni contingenti che non gli hanno permesso di ottenere pienamente la possibilità di accogliere questo dono. O in virtù appunto del soggetto che chiede o anche del soggetto che trasmette, del ministro. Perché a un certo punto il penitente può, in virtù di questo dono particolarissimo, che è questo dono pieno, che la Chiesa ne ha il potere in virtù appunto del primato Petrino. È Cristo che darà a Pietro la possibilità di rimettere completamente appunto i peccati. Il Santo Padre a un certo punto ha rilanciato questa potestà e agli uomini viene riladata la possibilità di essere finalmente sganciati, liberati da tutto quello che è grave. Diciamo cosa bisogna fare. Cosa bisogna fare? Bisogna fare tutta una serie di cose, nel senso che perché per ottenere noi questo dono dobbiamo intanto tutto predisporci. Questa è la condizione primaria. Non lo diciamo se vi ho venuto in San Domenico, è scritto, abbiamo lavorato con un cartello che descrive un poco le condizioni grazie alle quali si può lucrare, quindi ottenere questa indulgenza. La prima è la predisposizione personale. Cioè bisogna essere in qualche modo doci, obbedienti a questa grazia, a questo spirito che ancora legge sugli uomini e quindi approcciarsi in chiesa con questo sentimento di contrizione e di carità, che poi sarebbe l'amore pieno, l'apertura piena e disponibile a Dio. Ovviamente già questo è un modo di rispondere a questa grazia. Dopodiché il Santo Padre ci ha elencato tutta una serie di atti da dovere fare per poter, diremmo noi, vivere, chiudere e celebrare l'indulgenza. Il primo è la confezione sacramentale. Naturalmente in qualche modo è anche logica conseguenza. Se tu sei mosso da questo pentimento, automaticamente vuoi ringraziare il Signore confessando i tuoi peccati, cioè dicendo per quale motivo sei pentito, che cosa il Signore ti ha dato di sentire come un peso che gravava sulla tua anima, sulla tua persona. Quindi una volta confessati si vive la celebrazione eucaristica, che per poter lucrare da noi bisogna fare l'eucaristia in San Domenico di Palermo. Quindi tu celebri l'eucaristia, ti comunichi, cioè quindi ricevi la comunione, dopo aver recitato il credo. Quindi questo è l'aspetto che in qualche modo ti permette a te di vivere in pienezza questo atto di fede. Quindi la confessione, recita del credo e comunione. Quindi in questo caso si può ottenere l'indulgenza plenaria. Però ancora non abbiamo finito, perché il Santo Padre raccomanda a un certo punto che cosa? Che subito dopo bisogna pregare secondo le intenzioni del Santo Padre stesso. Come fai? Tu appoggi la preghiera del Santo Padre attraverso un Padre Nostro, un Ave Maria e il Gloria al Padre. Questa recita la devolvi per le intenzioni del Santo Padre. Perché il Giubileo abbia questo carattere domenicano, a un certo punto, il Santo Padre chiude con le indicazioni, raccomandando la recita della preghiera del Giubileo, che voi troverete in San Domenico, noi l'abbiamo stampata a mo' di cartolina, è stata appunto redascritta... Dio di misericordia, nella tua sapienza hai chiamato Domenico... ...tuo servo a mettersi in cammino nella fede, quale pellegrino itinerante e predicatore di grazia. Celebrando questo Giubileo, ti domandiamo di infondere nuovamente in noi lo Spirito di Cristo risorto, perché possiamo proclamare con fedeltà e gioia il Vangelo di pace, per lo stesso Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Questa è la preghiera del Giubileo, domenicano. Dopodiché l'ultimo atto da fare, essendo una casa domenicana, è un atto di devozione nei confronti di Maria, Santissima Regina del Santo Rosario. Il Santo Padre raccomanda una salva Regina, davanti l'effigia appunto al simulacro della Madonna del Rosario. Questo permetterà al fedele di lucrare l'indulgenza plenaria. Parliamo di Porta Santa, perché la domanda è questa. Chi non attraversa la Porta Santa non ottiene nulla? No, allora, sono forme diverse di poter ottenere la stessa cosa, perché la stessa cosa è il dono pieno della remissione. L'altra domanda è, se uno fa l'uno è la stessa cosa di... È la stessa cosa, sì. Diciamo che otteniamo la stessa cosa, noi otteniamo il dono pieno della riconciliazione con Dio. Anche se ci deve essere la stessa, la medesima predisposizione. Ci deve essere la medesima predisposizione, ci deve essere questo atteggiamento che risponde, dice un sì pieno, a Dio affinché Dio operi pienamente in noi. Poi tra i requisiti per ottenere un fedele deve essere battezzato, non scomunicato, il stato di grazia è intenzionato ad ottenere l'indulgenza. Questi presupposti ci debbano essere in ogni caso, se passi alla Porta Santa o non ci passi... Questo è chiaro, quello che io dicevo, la premessa deve essere il modo con cui tu vivi queste cose. E il modo con cui tu vivi è, ritorno a dirlo, è la risposta a questo spirito che chiama. Per cui a un certo punto tu capisci che vuoi vivere questa pienezza e solo Dio te la può dare, questa pienezza di vita. Per cui a un certo punto ti avvicini con quest'atto, come l'altra parte il pubblicano al Tempio che aveva, diciamo, questa sorta di reverenzialità timida nei confronti di Dio, al quale chiedeva però di poter vivere in pienezza la comunione con Lui. Questo per rimandare a un brano evangelico. Per quanto riguarda altre iniziative, già sin da domenica alle 18 anni c'è un'iniziativa. No, noi domenica abbiamo per rispetto, perché non avevamo già programmato, ma giustamente per rispetto alla nostra diocesi, perché come giustamente dicevi, i domenicani sono sempre in medio ecclesie, cioè noi viviamo tutto in comunione con la Chiesa e siamo a servizio della Chiesa. Domenico, anzi più di Francesco d'Assisi, che sono coetanei, visse un rapporto straordinario e anche di intensa amicizia con Diego, il suo vescovo, con il quale lavorò per la strutturazione dell'ordine. Questo è bello che si dica. Quindi noi continuiamo ad avere questa comunione piena, anche se siamo liberi, diciamo, da legami giuridici con la diocesi, perché noi siamo legati direttamente al Santo Padre, ma siamo sempre a servizio della Chiesa locale. Noi abbiamo saputo che la cattedrale, cioè il vescovo in cattedrale, aprirà il pomeriggio del giorno 13 la Porta Santa e quindi noi abbiamo anticipato l'apertura di questa mostra in San Domenico alla mattina, quindi domenica 13 alle 11.30, subito dopo la messa, che presiderò io. Noi apriremo questa iniziativa, che è un'iniziativa a livello provinciale, non è solo palermitana, questo è importante da dire. Cioè io sono, tra le diverse cose, sono promotore anche per il giubileo dell'ordine per la mia provincia religiosa, cioè per la regione del sud Italia. Noi abbiamo pensato, chiamiamolo ad un'iniziativa, che è appunto la Sacra Predicazione, intitolata in questa maniera. La Sacra Predicazione che è il modo in cui Domenico chiamò la sua prima comunità. È bello dire questo. La comunità fondata da lui a Tolosa, in Francia. E noi faremo questa installazione, questa mostra, con la quale raccontiamo chi siamo. Quindi raccontiamo di Domenico, raccontiamo del carisma dell'ordine e raccontiamo della sua diffusione nel territorio, in particolare del sud Italia, quindi dalla Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. È chiaro, lo sai che tu lo dovrai raccontare due volte, perché una volta dobbiamo fare una trasmissione. Lo faremo vedere, quindi vi aspettiamo anche... Siccome domenica mattina non potrà essere problemi tecnici, quindi dovremmo organizzare un altro incontro, il luogo, per raccontare appunto quello. Però noi vi aspettiamo, perché sarà bello poter ascoltare e vedere, perché una parte dell'installazione della mostra sono proprio dei video in cui sia i frati che le monache, perché l'ordine dei predicatori appartengono non solo noi frati, ma anche le monache di clausura, raccontano chi sono, raccontano la propria esperienza, la bellezza di essere frati dominicani. Senti, ho assistito giorno otto, diciamo, alla manifestazione che c'è stata in Piazza San Domenico con la presenza del nuovo arcivesco di Palermo. Ecco, io vorrei che tu esprimessi un tuo pensiero, chiaramente condizionato dalla presenza delle telecamere sul nuovo arcivesco che però da parte mia è, diciamo, come posso dire, una sensazione molto positiva e quindi sono molto fiducioso sull'opera che potrà svolgere quest'arcivesco che tra l'altro è abbastanza giovane, 53 anni, insomma. Mi possono consentire appunto di operare per il meglio della città di Palermo. Dunque, la cosa che posso dire così, in maniera estemporanea, è che io ero presente quando è stato ordinato vescovo, quindi ho vissuto questa celebrazione solennissima in cattedrale. Ti ho visto in televisione. Ero presente perché avevo il piacere di essere là e sono rimasto molto colpito dal discorso che lui ha fatto alla fine della celebrazione perché è stato un discorso molto profondo e anche molto bello, devo dire, perché non solo ha messo al centro l'importanza del ritornare ad ascoltare la parola di Dio, questo lui l'ha detto diverse volte, ci rimetteremo in ascolto della parola non solo io ma con tutti voi, questo è un atto straordinario, nel senso che è l'unico atto per cui noi siamo chiamati ad essere in quanto fedeli, cioè ritornare in ascolto di colui che ci chiama, ma poi ha rilanciato alcuni aspetti molto cari al Concilio Vaticano II e che oggi sono molto di grande sensibilità comune. Il dialogo con i vari aspetti dell'umanità, innanzitutto il dialogo con coloro che sono lontani dalla fede. È stato bello il fatto che lui ha ringraziato coloro che nonostante non fossero credenti erano là, questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo, bellissimo, non solo questo ma erano là coloro perché avevano la gioia di essere là presenti. L'altro aspetto è quello che ha ringraziato il rappresentante delle altre professioni di fede che sono stati là e lui ha sottolineato il fatto che sarà suo interesse, suo piacere ritornare a riascoltarsi, a condividere parti o aspetti del cammino umano. Speriamo di vederlo più in giro per le strade di Palermo che non rimanga chiusa all'interno del palazzo perché altrimenti... No, l'ultima cosa perché hai detto bene l'otto, quando io poi a un certo punto ho avuto il piacere di abbracciarlo, una cosa che mi ha colpito personalmente è questo sguardo attento, tutto quello che io dicevo, le due battute in realtà che ho fatto e questo è bello perché non era uno sguardo sfuggente o di colui che frettolosamente incontrava ma è uno che sa che deve, che è bello fermarsi con l'altro, questa è una cosa... Perfetto, siamo andati oltre, ci fermiamo, è sempre un piacere averti qui, quindi ti ringrazio come ringrazio tutti i tuoi colleghi dominicani ai quali sono affettosamente legato, ringrazio i telespettatori, buonasera a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie.